Allora, io stamattina mi sono svegliato tranquillamente, come tutte le mattine ho preso il mio bel caffè e poi mi sono accorto di essere finito su Gurulandia Ma quindi, di che si tratta? Praticamente il più grande mentalista italiano ha parlato di me in un'intervista Io direi di vedere subito il pezzettino in cui si parla di me E poi, state tranquilli, vi spiego tutto e vi do il contesto E mi raccomando, guardate il video fino alla fine perché ci saranno dei colpi di scena Poi non dite che non ve l'ho detto Partiamo subito Trovi anche su YouTube il video di chi poi ha smascherato i trucchi, no? Anche lì rovinando un pochino i trucchi Ma di Francesco no Come? Sì, sì Ah, sì, sì, ma... Che dire... Ognuno fa il suo lavoro, dai Quanto ti dà fastidio? Eh, tanto No, non... Sì e no, insomma Allora, di che video stanno parlando? Stanno parlando in particolare di questo video Che si chiama Ho smascherato il più grande mentalista italiano Lo trovate sul mio canale E l'ho pubblicato otto mesi fa Circa nove in realtà Ormai quasi nove E perché sono sicuro che stanno parlando di quel video E ovviamente stanno parlando di me Perché non c'è nessun altro video Su YouTube Ma su YouTube in generale Non solo su YouTube Italia In cui viene spiegato un gioco di Francesco Tesei Che è lui Dopo ve lo presento meglio E come vi ho già detto Viene definito da tutti O almeno così sembra Il più grande mentalista italiano Ma se volete la prova del nove Vi faccio sentire Delle cose che dice Francesco Una cosa in particolare Andiamo avanti Capisco il gioco Diciamo che Vedere Quello che noi facciamo Parlo al plurale Perché so anche altri È un settore Sono rimasti anche peggio di me Insomma Le ho sentiti molto dispiaciuti Da questa cosa qua Dire che sono dispiaciuti È riduttivo Io direi di più Che sono incazzati neri Come sanno tutti quelli che mi seguono Io ricevo minacce Anche pesanti Anche minacce di morte Da anni Per i video Che metto su youtube Ma andiamo avanti Ecco Per quanto mi riguarda Diciamo che Giustificare Quello che viene fatto Con l'idea La magia Tanto è solo un puzzle Da risolvere Ve lo faccio risentire Ve lo faccio risentire Vi faccio risentire Quest'ultima frase La magia Tanto è solo un puzzle Da risolvere Allora Qui Francesco Ha citato Una frase Che io dico In quasi tutti i miei video Adesso faccio una prova Ve lo faccio vedere direttamente Vado a prendere Un video a caso Ma è una prova Che potete fare anche voi Sul mio canale Io prendo questo video qui Che è un video Di un altro mentalista Ad Italia's Got Talent Allora Prendo questo video Vado più o meno Se non sbaglio Qui era un minuto Un minuto e mezzo E vi faccio sentire La frase che io dico Prima di spiegare Un gioco di magia Allerta spoiler Vi ricordo Che state guardando Tutorial Magia Italia E che sto per darvi La spiegazione Di questi giochi Quindi se avete aperto Questo video Per sbaglio Vi lascio 5 secondi di tempo Per chiudere Ma se anche voi Come me Concepite la magia Come un puzzle Da risolvere Potete farmi compagnia Fino alla fine del video Avete sentito Risentiamo te sei Risentiamo te sei La magia tanto è solo Un puzzle da risolvere E qui ha citato Proprio questa frase Tra l'altro Cambiandone il significato Perché io non dico Quella frase Con questo intento Io non mi giustifico Dicendo La magia tanto È una cosa stupida È solo un puzzle Da risolvere E posso fare Quello che voglio Assolutamente no Questo lo ha sottointeso Il più grande Mentalista italiano Non l'ho detto io Io dico questa frase Perché avverto Chi guarda il video Che sto per spiegare il gioco Che se non vogliono Vederlo Possono E devono chiuderlo Se non vogliono sapere Il segreto Se invece Qualcuno Concepisce come me La magia Come un puzzle Da risolvere Quindi vuole sapere Le tecniche Vuole sapere Come si applicano Le tecniche Come un artista Costruisce Un gioco di magia Allora può continuare A guardare il video Io ovviamente Non ho sminuito Mai La magia Per me È un'arte Di cui tra l'altro Sono super appassionato Penso che si veda La mia passione Nei miei video E quindi Dico quella frase Come Avvertimento Diciamo che Francesco Tesei Il più grande Mentalista italiano Mi fa un po' il verso Ok Qui ha faticato A nascondere Il fastidio Che prova Nei miei confronti Ma è normale Come molti Suoi colleghi Che viene fatto Con l'idea La magia Tanto è solo Un puzzle Da risolvere Ma io non la dico In questo modo Non dico Non dico questo Assolutamente no Comunque andiamo avanti Parliamo nello specifico Del video In questione Di che video si tratta Il video che vi ho detto prima In cui ho smascherato Io ho usato questo termine In maniera provocatoria Il più grande mentalista italiano È un video in cui Io spiego Analizzo Una performance Di magia Di mentalismo Che ha fatto Francesco Tesei Ad Italia's Got Talent In questa intervista Di Gurulandia Tra l'altro Diamo un po' di contesto Per chi non mi conosce Io su YouTube Spiego Le magie Che vedete in televisione Che vedete su internet Diciamo quelle più famose Io per tutti Sono Quello che spiega I giochi di magia Chi è Francesco Tesei Francesco Tesei Ve lo dico Ve lo presento Leggendo Direttamente La descrizione Dal suo sito Che cosa c'è scritto C'è scritto questo L'indiscussa Eccellenza Del mentalismo In Italia Autore e protagonista Della serie tv Il mentalista In onda In prima serata Su Sky 1 Ragazzi Mi raccomando Iniziate a ricordarvi Questa Questa cosa di Sky E con Il suo Human Su Apple TV E Prime Video Tra l'altro Io l'ho visto Vi consiglio di guardarlo Anche perché Anche di quello parliamo Oltre 120.000 Biglietti venduti Con il suo primo Spettacolo teatrale Scrittore E autore Verrizzoli Eccetera 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 Tra l'altro Che cos'è Gurulandia Per chi non lo sapesse Praticamente È uno dei podcast Se non Il podcast Più ascoltato In Italia In questo momento Ci sono andati Tra l'altro Un sacco Di personaggi Famosi Tipo Albano Gio Bastiani Francesca Fagnani Rocco Siffredi Insomma Un sacco Di personaggi Importanti Ma questo programma Chiamiamolo così Ha raggiunto Il suo Picco Massimo Con Fabrizio Corona Che fa gossip Su Chiara Ferragni E Fedez Ma vediamo Nello specifico Del video Come vi ho già detto Andiamo avanti Che cosa hai fatto Quest'Italia's Got Talent Perché fidati davvero Questi miei amici Erano impazziti Per quella performance Allora Italia's Got Talent È una storia buffa Perché io avevo già fatto Il mentalista Su Sky E mi telefona La produzione Di Italia's Got Talent E mi dice Francesco Qua Tu non lo puoi sapere Perché deve ancora andare In onda tutto Ma noi stiamo registrando Le audizioni Del programma Le puntate Quelle che saranno Le prime puntate Ed è successa una roba strana Quest'anno Che i mentalisti Che si sono presentati Hanno cannato tutti Sì Sì Chiamiamo Il mentalista Il mentalista Mannaggia Quante cose sto per dire Sul mentalista Grini per vedere se Insomma Se almeno lui ce la fa O se la pellegrina È veramente una colpa E c'era tutto un hype Allora Io quest'aneddoto L'ho spiegato anche Nel mio video vecchio Praticamente Nell'edizione Se non sbaglio Del 2019 Di Italia's Got Talent Andarono Una serie di mentalisti E nessuno di loro Riusciva a passare A passare le selezioni Perché sbagliavano tutti E allora La produzione Invitò Nel programma Francesco Tesei Proprio per Ingannare Diciamo Fare un gioco Di mentalismo Alla pellegrini Che sembrava Diciamo Sembrava con lei Non riuscire Nessun gioco di magia Vi metto Come vi ho già detto Un pezzettino Del mio video vecchio Dove proprio parlo Di quest'aneddoto Così sapete che Si parla proprio Di quel video Avete tutte le prove Parteciparono Una serie di mentalisti Che fecero Solo figuracce Allora Cos'è successo Frank Matano Fece un appello Invitando Tutti i mentalisti D'Italia A presentarsi Nella trasmissione I mentalisti D'Italia E allora Francesco Tesei Andò come ospite E quindi io In questo video Vado ad analizzare Tutta la performance A spiegare Tutti i vari trucchi E quel video Ha raggiunto Anche un Un discreto successo Questo ovviamente Ragazzi Solo grazie a voi Che i video miei Ve li guardate E mi supportate Ma io adesso Ragazzi Vorrei Portare l'attenzione Su un'altra cosa Che dice Francesco Tesei Quando parla di me Perché È importante È importante Per quello Che sto per dirvi La magia Tanto è solo Un puzzle Da risolvere Credo che Quello è un aspetto Ed è un aspetto Che non si può Senz'altro Negare O sottovalutare O censurare Allora Risentiamo bene Queste parole Divertiamoci anche noi Che ormai ci conosciamo Qui sul canale Siamo tutti amici Divertiamoci a fare Noi i mentalisti Sentiamo un po' Le parole che dice Risentiamole un po' Queste tre parole È un aspetto Ed è un aspetto Che non si può Senz'altro Negare O sottovalutare O censurare Non si può Negare Sottovalutare O censurare Utilizza proprio Questa parola Censurare Come se sapesse Che cosa è successo Al mio canale Qualche mese fa Sembra Diciamo informato Sono delle parole Che utilizzerebbe Una persona informata Rispetto ad alcune cose Che sono successe Sul mio canale Cerco di Ricapitolare un po' Quello che è successo Vi faccio un piccolo Riassunto Praticamente Otto mesi fa All'improvviso Sky Italia Che è l'emittente televisiva Che ha mandato in onda Italia's Got Talent Almeno quelle edizioni Ha iniziato a segnalarmi Tutti i video E il mio canale Ha rischiato di chiudere Perché Sky Italia Ha segnalato i miei video Con un metodo Molto brutale Che sarebbe Quello del copyright strike Quindi tutti i miei video Sono stati Ta 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 Come dei piccoli soldatini Buttati giù uno a uno E il mio canale Ha rischiato la chiusura Tant'è che Chi mi ha seguito lo sa Tutta la storia Viene documentata In questi due video Che vi lascio In descrizione Da qualche parte Tutto quello che è successo Come vi stavo dicendo Si trova Documentato in questi due video E praticamente Io ho dovuto Pagare un avvocato Per difendermi Per contestare Queste segnalazioni Da parte di Sky E non farmi chiudere il canale Quindi Alla fine è andata così Ho contestato Tutte queste segnalazioni Tutti questi copyright strike Da parte di Sky Ho vinto le contestazioni Grazie a Marcellone Marcello nazionale Il mio avvocato Sono riuscito A non chiudere Se non avessi avuto Un avvocato Il canale Non sarebbe online E mi stupisce Che parlando di me Francesco Te sei Oltre ad essere così Tranquillo Sembra tranquillissimo Quando Parla di me Anche se poco prima Quando gli fanno la domanda Sembrava un po' Faticare a rispondere Guarda qui Lisa Si può persino individuare Il secondo preciso In cui il suo cuore Si spezza a metà E Adesso Ma alla fine Trattenendo secondo me Un po' il fastidio Di questa domanda Da un parere Molto tranquillo Riguardo il mio canale Ma Io adesso Ne approfitto Per dire una cosa Che Io tanti mesi fa Quando Vi ripeto Ho avuto Problemi con Sky Italia Non ho detto Perché Io ho chiuso Quella questione Parlando di uno sbaglio Che forse aveva fatto Sky Italia Ma in realtà Come ho fatto anche intuire Non Ci ho mai creduto Veramente Anche perché Sky Non mi ha mai dato Una spiegazione Del perché mi avesse Segnalato Nonostante Quasi tutti i video Se non tutti i video Che ho fatto Utilizzavano materiale Già utilizzato Da altri canali Su Youtube Vi metto qualche esempio Sullo schermo Ma Aveva segnalato Proprio me Diciamo Che il sospetto Che ci fosse dietro Un tentativo di censura Un tentativo di Tapparmi la bocca Ce l'ho sempre avuto Tant'è che io Nel primo video Che ho fatto Parlando di questa questione Quando non era ancora risolta Sentite che parole Ho utilizzato Ci sono tantissimi canali Con Centinaia Di migliaia di iscritti Che riutilizzano i contenuti Di Italia's Got Talent Di Sky Italia Senza che Su di loro Vengano presi Provvedimenti Invece io Puntualmente Vengo preso di mira Chissà perché Guarda caso Proprio quando Ho iniziato a parlare Di chi non doveva parlare Questi sono stati I risultati E io adesso Vi vorrei parlare Di alcune Coincidenze Poi ragazzi Io voglio dire una cosa Io adesso Metto Delle informazioni Vi dico delle cose Poi Non voglio accusare Nessuno Ovviamente Metto le mani avanti Ma ognuno di voi È libero di farsi La propria idea Io adesso Vi faccio vedere Solo delle cose So che siete persone Che accendono il cervello Che ragionano Quindi Ognuno di voi Si farà La sua opinione Se anche voi Vedete come me Delle coincidenze Molto particolari Allora Magari Insomma Vi farete La mia stessa Opinione Se dalla regia Mi iniziano a mandare La scritta Indagine Io direi Di iniziare Allora Come vi ho già detto Io Ho avuto problemi Con Sky Italia Otto mesi fa Che cosa è successo Ve lo ridico Magari vi rimetto Sullo schermo Qualche informazione Otto mesi fa Sky Italia Mi ha segnalato Tutti i video Che ho fatto Su Italia's Got Talent Tutte le spiegazioni Che ho fatto Dei personaggi Che sono andati Ad Italia's Got Talent E ve lo ripeto A scanso di equivoci Sono stato segnalato Solo io Tutti gli altri video Anche se erano Video Che utilizzavano Lo stesso materiale Che ho usato io Perché io ho avuto Segnalazioni per copyright Quindi per il materiale Che utilizzavo Tutti gli altri canali Non sono stati segnalati Sono stato segnalato Solo io Otto mesi fa Questo per dirvi Che se fosse stata Una segnalazione A tappeto Da parte di Sky Sarebbero stati segnalati Tutti i video Presenti su YouTube Che utilizzavano Quel materiale Invece sono stato Segnalato Solo io Questo voglio Che sia chiaro Ma ragazzi Qual è la prima Coincidenza Molto particolare È che mi sono stati segnalati Questi video Otto mesi fa Ma io pubblico video Di Italia's Got Talent Sul mio canale Da tre anni Da tre anni E in questi tre anni Non ho mai avuto problemi Però guarda caso Otto mesi fa Sky si accorge Della mia presenza E mi segnala Tutti i video Tutti i video Che ho fatto Ma qual è la cosa strana Indovinate Che video ho pubblicato Otto mesi fa Ho pubblicato Questo video qua Ovvero Ho smascherato Il più grande Mentalista italiano Dopo che pubblico Quel video Mi vengono segnalati Tutti i video Che ho fatto Anche quelli Di tre anni prima Sembra proprio Una bella coincidenza Insomma Sono tranquillo Sono tre anni Che pubblico video Di Italia's Got Talent E dopo Dopo Ve lo ripeto Per essere preciso Dopo Che faccio Un video In cui spiego Un gioco Di Francesco Tesei Ad Italia's Got Talent All'improvviso Sky Si accorge di me E cerca Di farmi chiudere Il canale Che bella coincidenza Ragazzi Però Le coincidenze Le cose strane Non finiscono qui Perché Vi invito A fare questa prova Che potete fare Tranquillamente Anche voi Da soli Se voi Scaricate un video Di Italia's Got Talent Uno qualsiasi E provate a ricaricarlo Su Youtube Questo vi viene Bloccato in automatico Però Da chi vi viene Bloccato Vi viene Bloccato Da Fremantle International Spero che si pronunci così Nel caso sto sbagliando Fate finta di niente Ma la domanda è Perché il video Viene bloccato In automatico Dalla Fremantle E non Da Sky Perché se andiamo A cercare Che cos'è Questa Fremantle Anche se penso Molti di voi La conoscano Sul sito Della Fremantle Italia Che cosa c'è scritto Allora proprio C'è scritto Chi siamo Fremantle È leader mondiale Nell'ideazione Produzione Distribuzione Di programmi Di intrattenimento E serie televisive E guardate un po' Se andiamo Nella sezione Programmi Guardate che cosa troviamo Troviamo proprio Italia's Got Talent Niente di male Direte voi Insomma È la casa di produzione È l'azienda Che produce Questo Programma televisivo Che poi L'emittente televisiva In questo caso Sky Manda in onda E perché allora Ve lo dico Perché ragazzi Se voi Provate a ricaricare Qualsiasi Frammento Di Italia's Got Talent Il video Vi viene segnalato Dalla Fremantle Che si occupa Della segnalazione Almeno prevalentemente Si occupa Della gestione Social Dei programmi Che produce Ma a me però La segnalazione È arrivata da Sky E mi è arrivata Una segnalazione In manuale Quindi vuol dire Che c'è stato Un signore O una signora Insomma Una persona Che manualmente Mi ha segnalato I video E indovinate un po' Chi lavora con Sky Italia Proprio Francesco Tesei Come si vanta Lui stesso sul sito E come si è vantato Anche nell'intervista Che abbiamo appena visto Io avevo già fatto Il mentalista Su Sky Intanto contesto Stiamo parlando Del programma Che avevo fatto Per Sky Che coincidenza strana Che non sia stata Fremantle Fremantle A provare a farmi Chiudere il canale Ma sia stata Sky In manuale Proprio Sky Che lavora Con Francesco Tesei O comunque Lui Ci tiene Spesso a specificare Che ha un rapporto Con Sky Che cosa strana Ragazzi però Le coincidenze Particolari Non si fermano qui C'è una cosa Che io Non ho mai detto Pubblicamente Colgo l'occasione Per dirla Adesso In questo video E inizio A tirare fuori Il cellulare E dovete sapere Che io Prima di decidere Se farvi vedere Questa cosa Ho chiesto al mio avvocato Mi ha detto Che è una cosa Tranquillissima Visto che sono Cose pubbliche Alla fine Ho chiesto il permesso Mi sono consultato Se farvi vedere Questa cosa Qual è la cosa Che non vi ho detto Fino ad adesso Praticamente Dovete sapere Che poco prima Pochi giorni prima Che mi arrivassero Queste segnalazioni Tutte insieme Da parte di Sky È arrivata Mi è arrivata Sul mio Facebook Privato Quello con il mio nome E cognome Che voi non conoscete Praticamente Il nome e cognome Con cui vado a fare i colloqui Il mio nome e cognome Vero Mi è arrivata Su Facebook Una richiesta Di amicizia Molto particolare Ve la inizio a far vedere Mi è arrivata Questa richiesta Da un tale Francesco da Forlì Poi vado a vedere Sul profilo E si tratta Di Francesco Tesei Mi arriva Questa richiesta Tra l'altro Ve la faccio vedere Direttamente sul cellulare Allora Ve lo faccio vedere Così Almeno siete sicuri Che non vi ho messo Screen falsi O modificati Vedete la richiesta Francesco Forlì Si legge anche 38 settimane fa Fatevi il calcolo La tempistica Corrisponde perfettamente Vedete Vi faccio anche vedere Che posso Anche aggiornare Questo qui Il mio Facebook Provo a cliccare Anche se non vedo niente E se vado a vedere Qui Si tratta di Francesco Tesei Questo qui È proprio il suo profilo Immagino Il suo profilo Facebook Che usa lui Privato Ovviamente è pubblico Non vi sto facendo vedere Informazioni Il suo profilo È pubblico Io la richiesta Non l'ho accettata La richiesta di amicizia Il profilo Lo potete consultare Voi stessi E come vi stavo dicendo Mi arriva questa richiesta Pochi giorni prima Delle segnalazioni Da parte di Sky Che io Non sapevo nemmeno Che mi stessero Per arrivare Che coincidenza Io adesso ragazzi Vi metto tutte le cose in fila Ok Vi metto tutti i passaggi In successione Poi Ognuno di voi Si fa la propria opinione Ricapitolando Dopo tre anni Che io pubblico video Su YouTube Non ho mai problemi Faccio il video Su Francesco Tesei E poco dopo Mi vengono segnalati Tutti i video Da Sky Italia E rischio di chiudere il canale Pochi giorni prima Di ricevere queste segnalazioni Pochi giorni prima Di subire questo accanimento Da parte di Sky Mi arriva una richiesta Sul mio Facebook Personale Sul mio Avete letto 38 settimane fa Fate il calcolo Se non ci credete Mi arriva La richiesta Da Francesco Tesei Io in quel momento Non sapevo Che sarebbe Successo Quello che è successo Ma la cosa Che lascia più L'amaro in bocca È che Mi ha mandato La segnalazione Sky Che ha lavorato Con Francesco Tesei Vi ripeto Che Francesco Tesei Ha fatto una serie tv Per Sky Che si chiama Il mentalista Quindi c'è C'è stato anche Un legame stretto La segnalazione Ve lo ripeto Da parte di Sky È stata fatta In manuale Non in automatico Non da un algoritmo C'è stata una persona Che mi ha mandato Quelle segnalazioni E vi ripeto Che se non avessi avuto Un avvocato Pagato Ragazzi Pagato Con soldi Che io mi guadagno Lavorando onestamente Se non avessi pagato Un avvocato E avessi contestato Quelle segnalazioni Questo canale Non esisterebbe più Sarebbe chiuso E la cosa più strana Questa qui ragazzi Segnatevela Vi prego La cosa più strana È che le segnalazioni Arrivano da Sky Che ha lavorato Con Francesco Tesei E non arrivano Dalla Fremantle Che vi esce In automatico Rivendica il copyright Dei video Che provate A ricaricare Di Italia's Got Talent In automatico E che si occupa Della gestione Social Dei video Delle produzioni tv Che lascia Alle emittenti Televisive Questo è Il quadro Se per voi Ci sono Delle coincidenze Particolari Fatemelo sapere E niente ragazzi Questa è Tutta la storia Fatevi la vostra opinione Scusatemi se sono stato Bello martellante Puntiglioso Però questa storia Mi ha fatto stare male Mi ha fatto soffrire Perché mi sono dovuto Difendere da solo Contro una multinazionale Che ha più potere Soprattutto economico Rispetto a un canale piccolo Ho difeso con le unghie E con i denti La mia libertà Di espressione Che in un paese libero Dovrebbe aspettarmi Di diritto Come aspetta Ad ognuno di voi Ma a quanto pare Se succedono queste cose Non tutti la pensiamo Allo stesso modo Poi Insomma Chissà Per quale motivo È successo Ma adesso Voglio dire una cosa Direttamente a Francesco Te sei Visto che Mi ha nominato Scusami Francesco Ma Ti è accaduto qualcosa Ti è caduto Il naso Se vuoi Se vuoi rimettertelo Perché Ma comunque Tornando a noi Siccome Io su questo canale Faccio informazione Faccio divulgazione Nell'ambito della magia Direi di Vedere E commentare Delle dichiarazioni Che ha fatto In alcune interviste Più vecchie Francesco Te sei Perché qui Avrei una piccola Tirata d'orecchie Da fare Ascoltiamo un po' Che cosa da dire Francesco Te sei Sul mentalismo E sui mentalisti Sentiamo un po' Come si presenta I mentalisti Sono in grado Di intuire I pensieri Delle persone In un certo senso Quindi leggere Nella mente Mamma mia Mamma mia Mamma mia Risentiamo Perché Non posso Credere Alle mie orecchie I mentalisti Sono in grado Di intuire I pensieri Delle persone In un certo senso Quindi leggere Nella mente Ma dove Ma dove Ma come Sentiamolo Forse lo dice Oppure di condizionare I pensieri In modo da condizionare Poi le azioni Delle persone Non possono farlo I mentalisti Sono illusionisti Come gli altri E usano solo Trucchi di magia Non potete vedere Il labiale Ma Trucchi di magia Il mentalismo Contemporaneo Si avvicina Molto di più Ai mondi Della psicologia E della comunicazione Lo vediamo anche Con delle serie tv Assolutamente No Il mentalismo moderno Magari ha come tema Come tema di presentazione La psicologia Ma un mentalista Non sa Nulla Di psicologia Nulla Magari può essere appassionato Di psicologia Ma come Non so Un medico Può essere appassionato Di Di storia Però Non sono connesso Le due cose The mentalist Oppure addirittura Come Lie to me Tutta incentrata Sulla capacità Di smascherare Le bugie Attraverso L'osservazione Delle microespressioni Del viso Il linguaggio Del corpo Ma che stai dicendo Risentiamo Perché Cioè lui ha detto È praticamente Un mentalista È capace di Decifrare Magari Quello che sta Pensando una persona Più o meno Ovviamente Leggendo le Microespressioni Facciali Sentiamo cosa ha detto Attraverso L'osservazione Delle microespressioni Del viso Il linguaggio Del corpo Eccetera Eccetera Allora Francesco De 6 Siccome sei il miglior Mentalista In Italia E sai leggere Le microespressioni Dici che i mentalisti Sanno leggere Le microespressioni Insomma Così dici Vedi se riesci A leggere Questa microespressione Attento Perché È molto Difficile Da cogliere È una sfumatura Molto leggera Comunque A parte Gli scherzi Io non sono D'accordo Con questo modo Di promuovere Il mentalismo Cioè secondo me Andrebbe fatto Un enorme Un enorme Disclaimer All'inizio Di tutte le interviste Dicendo Il mentalismo È illusionismo Non è altro che Illusionismo I mentalisti Non sono Per forza ovviamente Perché magari lo sono Però non è connesso Il mentalista È un illusionista Va bene Il fatto che magari È anche appassionato Di psicologia È un'altra cosa È un'altra cosa Non sanno riconoscere Le microespressioni facciali Ma ne sto facendo Un paio Che sto pensando De 6 Dimmelo Dimmelo Ecco Questo tipo di Di mondo Quello della psicologia Quello della Comunicazione Comunicazione Subliminale È il sottotesto Diciamo Del Vi faccio vedere Questa Comunicazione Subliminale Comunque io lo ripeto Magari Francesco Tesei È anche esperto Di psicologia Non è laureato In psicologia Non lo è Però dico Magari è esperto Ha studiato Gli piace la psicologia Gli piace Non dico questo Mani avanti Però dico che Non per forza Un mentalista Deve essere Esperto Di psicologia Nel 99 per cento Punto nove Non so come dirvelo Il mentalista Non sa nulla Di psicologia Usa la psicologia Come tema Per presentare Lo spettacolo Ma sono tutti Trucchi di magia Tutti trucchi di magia Non esiste Nessun Prestigiatore Mentalista Che Può Indovinare una parola Per fare un esempio Usando La psicologia No La indovina Usando dei trucchi Di magia Vi faccio vedere Un'altra Intervista Un altro frammento Di un'intervista Che ha fatto Te sei Antecipato Alla trasmissione Mistero su Italia 1 Al programma Il senso della vita Su canale 5 Mamma mia ragazzi Ma chi se le ricorda A queste trasmissioni Mistero Il senso della vita Mi sembra che lo conduceva A Bonolis Il senso della vita Chissà che fine hanno fatto Non l'hanno più fatta Come è avvenuto Il tuo contatto Con Gli ospiti Con il pubblico Ma In quelle situazioni Di solito Vengo chiamato appunto In qualità di esperto Della comunicazione Ecco allora Non mi voglio arrabbiare Vedete Io che devo dire Viene chiamato In qualità di esperto Di comunicazione Ma Il mentalista Ragazzi È un illusionista È un illusionista Tanto quanto Il mago Che taglia la donna a metà Tanto quanto Il mago Che fa apparire le colombe Non sa per forza Di psicologia Non è in materia sua È un illusionista Allora io mi chiedo È giusto che Un illusionista Si dà da solo Il titolo Di esperto Di comunicazione Solo perché È un illusionista Poi magari Questa è una domanda aperta E non è un'accusa Attenzione Non voglio denunce Non è un'accusa Fatevi la vostra idea Sempre Sto solo dicendo È giusto Unire le due cose Sotto intendendo Che Il mentalista In quanto mentalista Può anche essere Esperto di comunicazione Secondo me Non lo è Finiamo di vedere Che ha da dire Francesco Ragazzi comunque sto Sto sudando Adesso andiamo avanti Ho un percorso Che mi ha fatto diventare In qualche modo Sì diciamo esperto Mi ha appassionato E cioè il mondo Della comunicazione subliminale Cioè tutta quella comunicazione Che non Non traspare Non è visibile Ma in realtà Condizione e influenza Tutti i nostri pensieri E quindi di conseguenza Anche le scelte Che noi facciamo Per leggere Il pensiero altrui C'è bisogno di preparazione O sono ridotti Sentiamo Sono curioso Normali No 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 Nulla Nulla di paranormale Infatti quando si dice Leggere il pensiero Bisorrebbe mettere Questa frase Tra virgolette Allora a me Fa piacere Che adesso I mentalisti Sono corretti Da questo punto di vista Lo dicono Che anche te sei Mani avanti Ha sempre detto Di non avere poteri paranormali Ma è sempre stato Cioè ha sempre detto Di non avere poteri paranormali Ma ha sempre comunque legato Quello che fa Il mondo della psicologia Ha sempre legato Quello che fa Il mondo della comunicazione Ma avete sentito Solo io l'ho sentito O lo avete sentito anche voi Che si è autodefinito Esperto di comunicazione Domanda Non voglio denunce È una domanda Non leggo il pensiero Nel senso che mi compaiono Le parole Che tu stai pensando Ha detto Non leggo il pensiero Nel senso Non mi compaiono Le parole Che sto pensando Sentite cosa dice adesso Sentite Io cerco di intuire I tuoi pensieri Osservando Tutta una serie di Appunto di informazioni Che riesco a Attrarre Per esempio Dal modo in cui tu sei vestita Dal tipo di linguaggio Che usi Dagli accessori Che indossi Tutte queste cose Mi forniscono Delle coordinate Di quella che potrebbe essere La tua mappa mentale Da cui io poi riesco Mannaggia Quando ci la faccio Che cosa tu stai pensando Ora avete sentito La stessa cosa Che ho sentito io Ha detto che dal linguaggio Del corpo Dalle espressioni Da quello che indossi Io riesco ad intuire I tuoi pensieri Quando Io vorrei sapere Quando Perché 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 io Ho visto Gli spettacoli Di Tesei E ne ho visti abbastanza Ho visto Mind Juggler Ho visto Human Ho visto Telepathy Però Io in nulla di questo Neanche nelle apparizioni Che ha fatto Per televisione Francesco Io non ho mai visto L'applicazione Della psicologia Per portare a termine Un gioco di magia Ho sempre visto Dei trucchi di magia Come Ho anche fatto vedere Nel video che ho fatto Su Italia's Got Talent Quindi io mi chiedo Quando Una domanda aperta Non voglio denunciare Una domanda aperta Ho detto quando Una domanda Io non l'ho mai vista Dal mio punto di vista Però Vorrei riproporre una cosa Allora adesso Voi secondo me Non capirete Quello che sto pensando Ci riesce Solo Francesco Te sei perché Riesce a leggere Le microespressioni Già lo sapete Anche se porto la maschera Lui ci riesce Allora Vedete Francesco Leggi Quello che sto pensando Di quello che hai detto A me cosa mi fa ridere Ragazzi Che qui Lui si è venduto Come esperto Di comunicazione Almeno in questa intervista Ora Metto di nuovo Le mani avanti Non so se queste interviste Sono state tagliate E cucite Magari lui Ha precisato Delle cose Magari Ha dato un contesto Io ho sempre ovviamente Messo dei frammenti Metto le mani avanti Sono solo frammenti Voi Tutte le cose Che ho visto In questo video Ve le lascio Integrali In descrizione Così Le andate a vedere E vi fate la vostra idea Va bene Vi fate la vostra idea Non fatevi condizionare Dalle mie Microespressioni Però per esempio Io ho un'altra domanda Aperta Francesco Tesei Ha anche fatto un libro Che si chiama Ve lo faccio vedere Edito da Rizzoli Si chiama Il potere E nella mente Edito da Rizzoli Lui se non sbaglio Ha parlato di Comunicazione Non verbale Paraverbale Programmazione Neurolinguistica Allora io mi metto Le mani nei capelli E mi chiedo È giusto che Un artista Un mentalista Che alla fine È un illusionista Si vende anche come Esperto di comunicazione Non specificando mai Che le due cose Non sono Per forza legate Domanda aperta E mi evito anche Questa denuncia Non lo so Ditemelo voi Ditemelo voi ragazzi Che poi La cosa che mi fa ridere Non mi fa ridere poco È che in queste interviste Più vecchie Magari Francesco Tesei Parla di Psicologia Della lettura Del linguaggio Del corpo Dei segnali Subliminali Insomma avete capito E poi nelle interviste Magari anche proprio L'intervista più recente Che abbiamo visto Quando gli chiedono Di far vedere qualcosa Fa semplicemente Dei giochini Con le carte Dei semplici giochini Con le carte Volete qualche altro Esempio rapido Qui usa un libro Truccato Per indovinare Dei numeri Si chiama P-Revelation E si trova in vendita Nei negozi di magia Qui O qui se preferite Usa un dado elettronico Per indovinare un numero Si chiama Mental Dice E anche questo Lo trovate in vendita Nei negozi di magia Qui usa Una scatola truccata Per far toccare E diciamo Sentire con le mani Ad uno spettatore Un oggetto invisibile Si chiama Emotion Box E anche questa La trovate in vendita Qui usa Un pad elettronico Per indovinare una parola Si chiama Picking Pad E anche questo Indovinate un po' Lo trovate in vendita Mi fermo qui Perché potenzialmente Potrei andare avanti All'infinito Voi Quanta psicologia Avete visto Io Zero E allora io mi chiedo Perché non ci fai vedere Qualche bella applicazione Di psicologia Perché non indovini Una parola Leggendo le microespressioni Facciali È un esempio Chissà perché Domanda aperta Mi scanso Un'altra denuncia Perché poi La cosa che mi fa strano È che se andiamo a vedere Magari proprio La serie tv Il Mentalista Fatta da Francesco De 6 Su Sky Gli vediamo fare Delle cose assurde Incredibili Insomma Sembra che riesce Quasi a leggere Nella mente Cose che insomma Non si vedono Tutti i giorni Sicuro non si vedono Nelle interviste E allora io mi chiedo Boh Chissà Che poi ragazzi Io vi consiglio Di recuperarvi La serie tv Il Mentalista Perché regala Anche dei momenti Interessanti Quando ho messo La mano sul vetro Ho pensato Al colore Della biancheria Che indosso Mi ricordo Questa cosa Di Francesco De 6 Che scappa Da un'auto Con un saltino Era tipo Una 600 Scappa Dalla macchina All'ultimo secondo Era un esperimento Di Di escapologia Veramente una cosa A dir poco Imbarazzante Poi c'è lui Con la maschera Di Hannibal Lecter Insomma Il silenzio Degli innocenti Recuperatevela Fidatevi di me Recuperatevela Io magari adesso Mi sono fatto anche Due risate Però voi dovete sapere Che io facendo Questi video E dicendo queste cose Rischio Rischio perché I mentalisti Ma in realtà Molte persone Che fanno parte Dell'industria magica Non sono felici Di non poter più dire E fare Quello che vogliono Non sono più felici Di non potersi più vendere In un determinato modo Perché lo sanno Adesso Che se dicono qualcosa Di un po' strano Io arrivo E li correggo E vi assicuro Che non sono Per niente contenti Della mia esistenza Ma voi lo sapete Che a me Non interessa E continuerò Almeno finché Mi va di farlo E io penso Ragazzi Che tante cose Soprattutto i motivi Che mi spingono Ad andare avanti Nonostante tutti questi ostacoli Tante cose Non devo nemmeno spiegarle Perché Alcune azioni Che io ho fatto Mi precedono Parlano per me Perché io Ho combattuto E questo è sotto gli occhi Di tutti Ho combattuto Per questo canale Dal quale Non ci guadagno nulla Non ho un ritorno economico Io questa cosa L'ho detta tante volte È vero che ho La monetizzazione attivata Ma non su tutti i video Non guadagno così tanto In più Ci pago le tasse E devo mettere Dei soldi Ho messo dei soldi Per Difendermi Dalla situazione Con Sky E anche da altre cose Di cui Non vi ho ancora parlato Ma ve ne parlerò Appena Appena è possibile E mi sento di dire Che dal punto di vista economico Fino ad adesso Ci ho solo perso E dove ci ho guadagnato Ci ho guadagnato Dal punto di vista Umano Ci ho guadagnato Per il rapporto Che ho con voi Che ho costruito Con voi Penso che Il fatto che io porti Una maschera Parla per me Perché a me Non interessano i numeri Non interessa apparire Non interessa la fama Io Compaio In maniera anonima Insomma Io conosco persone E soprattutto persone Che lavorano Su internet Lavorano sui social Che si venderebbero Un parente Per avere Due, tre mila Quattromila followers In più su Instagram Per farvi un esempio Io invece ho rifiutato Tutto questo Perché non mi interessa E l'ho fatto Mettendo una maschera Perché voglio Che questo canale Sia nostro Per me Quando uno di voi Decide di iscriversi Fa parte Di una famiglia Di amici Insomma E io parlo Ovviamente ragazzi Provo a fare Del mio meglio Però accontentare tutti È proprio Umanamente impossibile Io cerco di parlare Con tutti quanti voi Se mi iscrivete Su Instagram Io rispondo Ovviamente Quando posso Rispondo A tutti E neanche in maniera Superficiale Mi metto a parlare Ad alcuni di voi Ho detto Scrivimi il numero Ti chiamo un attimo Ci facciamo due chiacchiere Anzi invito Tutte le persone Con cui ho parlato A lasciarmi un commento E per me Non devo neanche stare qui A spiegare Quali sono le cose importanti Perché Chi mi segue da tempo Penso che ormai L'abbia capito Voi pensate Che per esempio Per farvi proprio Un esempio pratico Io non pubblico video Da quattro mesi Che nell'era digitale Sono tipo 10 anni Perché Alcuni di voi Ho visto E sono anche preoccupati E vi ringrazio dei messaggi Magari pensavate Che mi avevano minacciato Che mi avevano rapito No ragazzi Voi dovete capire Che se io Non ho nulla da dire O non ho un'idea Per un video Sto zitto Non dico nulla Perché Non ho nessun Nessuna voglia Di Dover fare un video Perché ci devo essere Per avere paura Che le persone Poi non mi seguono più Non mi interessa Se ho delle cose Da dire Allora accendo La videocamera E parlo Altrimenti Non dico nulla Un influencer Serio Non starebbe Quattro mesi Senza pubblicare Penserebbe A tutti i soldi Che perde A tutta l'attenzione Che perde A me ragazzi Non me ne frega Nulla Questo canale È nostro Io sono tornato Oggi per esempio Perché avevo Qualcosa da dire E perché Mi mancavate Io penso di Non avere nulla Da dimostrare A nessuno Se lo sto dicendo In questo momento In telecamera È per Lanciare Un messaggio Ai prestigiatori Che sono arrabbiati Con me Pensano Che chissà Per quale motivo Lo faccio Queste Argomentazioni Che lo faccio Chissà Per i numeri Chissà Per i soldi Sono le prime cose Che dicono I prestigiatori Quando si arrabbiano Con me Lo so perché Me lo dicono Spesso nei messaggi Privati Quando penso Che sia proprio Lampante Che Non può Proprio essere così E vorrei chiudere Con un'ultima cosa Secondo me Gli unici artisti Che hanno paura Di me Hanno paura Di Che io faccia Un video Su di loro Sono quegli artisti Che se gli togli Il trucco di magia Non rimane nulla Io ho fatto Per esempio Ho spiegato I giochi Di Mario Lopez Non penso Che abbia perso Minimamente La bellezza Dopo la mia spiegazione Perché lui È un artista Eccezionale Non penso Che Eric Chen Ho fatto un video Che è diventato Popolarissimo Non penso Che qualcuno Si sognerebbe Di dire Che Quel video Che ho fatto Sminuisce La performance Perché Eric Chen È un artista Incredibile Se Un artista Si sente sminuito Perché gli ho tolto Il segreto Penso che Perché oltre il segreto Non c'era nulla E io con questo discorso Chiudo Vi mando un bacio Ragazzi E noi ci vediamo In un prossimo video